L'osteogenesi imperfetta, nota anche come malattia delle ossa fragili, è una condizione genetica rara che colpisce un bambino ogni 20.000 nascite. Sebbene la fragilità ossea e il rischio di fratture siano tra le caratteristiche più comuni, colpisce l'organismo nel suo complesso e il messaggio dell'indagine Impact, realizzata dalla Federazione Europea Osteogenesi Imperfetta e Mereo Biofarma, che ha coinvolto più di 2.000 persone per far luce sul reale impatto della malattia. Questo è dovuto al fatto non tanto in sé delle fratture, anche se comunque una frattura ti toglie circa sei mesi della tua vita in tutto l'iter che una persona deve compiere per potersi riprendere da una frattura, ma quanto per tutte le altre piccole problematiche che una persona ha, come il dolore e la fatica e quindi rendono l'osteogenesi imperfetta, ahimè una patologia che deve essere ben valutata anche dall'istituzione. Rispetto ai partecipanti provenienti da altri paesi europei, gli italiani hanno segnalato di dover spesso pagare le cure di tasca propria. È dunque importante fare di più per offrire loro una presa in carico multidisciplinare, con il contributo di una serie di specialisti che prendano in carico le molteplici sfaccettature dell'osteogenesi imperfetta. Devono essere per questa patologia messe in campo delle risorse importanti da un punto di vista della sanità pubblica, in particolar modo sulle terapie, perché sono delle terapie costose, sono delle terapie che possono essere fatte solo all'interno di centri specialistici. L'indagine IMPAC vuole inoltre contribuire a diffondere maggiore consapevolezza sull'importanza di una diagnosi precoce per assicurare ai pazienti un trattamento e un'assistenza migliori. La diagnosi precoce che è senz'altro clinica, radiologica e dopo deve essere accompagnata dalla diagnosi genetica, comporta il fatto di modulare poi la scelta terapeutica nel migliore dei modi.